Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi porto un video un po' diverso dal solito In quanto comunque non ho la mito Vi lascio il link in alto a destra Quindi ragazzi, visto che non ho la mito con me Non so cosa portare sul canale Ho chiesto su Instagram Quindi se non mi seguite su Instagram andate subito a seguirmi Se potesse interessare portare un video di un mio giro in pista Perché quest'estate sono stato con degli amici in Germania Abbiamo fatto un bel giro Austria-Germania-Svizzera Poi siamo riscesi in Italia E in Germania non potevamo non andare a Norburgring Siamo andati a Norburgring Abbiamo noleggiato una Polo GT Quindi una macchina con la trazione anteriore Se non ricordo male 200 cavalli Una cosa del genere Con cambio automatico E devo dire che mi ha anche sorpreso come macchina Perché comunque andava discretamente Abbiamo scelto di portare una macchina Comunque con il cambio automatico Essendo la prima volta che andavamo al Norburgring Quindi per non andare a spendere troppo Per guidare macchine di cavalleria maggiore Abbiamo scelto di restare bassi E divertirci lo stesso Perché alla fine è stato veramente molto divertente Spero ragazzi che questa tipologia di video vi piaccia Quindi lasciate subito un pollice all'insù E niente Godetevi questo giro in pista Ci vediamo alla fine del video Ma lo faccio col grand'angolo Lo faccio col grand'angolo zi Che sede da un bomba So che non riesco a registrare E guardare se mi aspetta Lascia perdere Tanto ce la coprerò io Nabbo dai Lo aiutare pure in me Ma com'è l'inquadratura? Riesci a vedere dallo schermino? Eh Sì 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 è perfetto Sì sì è perfetto Sì sì è perfetto Togli un po' la leonizionale per favore Vai Amici Wuhuu Zupido Metire contro friccia Nunca arriva la istra Voi Doisire Un po' il chip un po' di potere che rimini ci stanno un po' di potere che rimini un po' di potere un po' di potere che rimini ci stanno e uno è andato un po' di potere che rimini ci stanno però c'è la ritrazione un po' di potere che rimini ci stanno 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 E vai Dai ragazzo E puzza Madonna l'ho stuprata Mamma meno male che non è andata viva L'ho stuprata Shit comunque c'è ragione Una volta che ci state via proprio Stavata Mamma mia Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace e seguitemi su Instagram Iscrivetevi al mio canale YouTube Per questo video è tutto Mitch Tuning vi saluta Ciao a tutti ragazzi